Sono sui denti la pazza, sempre e sono sui denti Casto, 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 Casto Risponde la segretaria telefonica di Garzia, lasciare un messaggio dopo il segnale acustico Oh, oh, e chiude Ma mi richiamo e gli rifaccio la segretaria La devo seguire? Ah ok Casto, 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 Casto Risponde la segretaria telefonica di Garzia, lasciare un messaggio dopo il segnale acustico In centrale, nelle celle, vieni Arrivo, arrivo, arrivo Risponde la segretaria telefonica di Garzia, lasciare un messaggio dopo il segretario Risponde la segretaria telefonica di Garzia, lasciare un messaggio dopo il segretario